Nonostante il cielo basso, gonfio di nubi, c'è aria di festa oggi a Portoferraio. In un cinema della cittadina, piccoli e medi proprietari si trovano per ascoltare il discorso dell'onorevole Togni al primo congresso elbano dei coltivatori diretti. Parla ora l'onorevole Bonomi, che illustra la situazione dell'agricoltura italiana. Nella stessa giornata, sempre a Portoferraio, si inaugura il moderno enopolio realizzato dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari. L'efficiente stabilimento nel quale possono essere raccolti 13.000 etolitri di vino viene ad appagare un'antica aspirazione dei viticoltori elbani, che potranno infine direttamente vinificare le loro uve con una gestione collettiva. Degni di biblici episodi questi grappoli opimi.